Il bilancio è molto positivo. Ieri a Gorizia abbiamo affrontato dei temi veramente importanti sull'invecchiamento della popolazione, sull'intelligenza artificiale, temi molto complessi, molto dibattuti, anche di politica generale. Oggi ci siamo focalizzati in sostenibilità e turismo con tutte le sue sfaccettature, con relatori veramente importanti. Il quadro che ne viene fuori è un quadro di speranza, di attenzione, di indicazione a lavorare in una certa maniera. Non si può più pensare di lavorare in maniera, come dire, farò domani ma bisogna fare ieri. Per cui l'indicazione è questa, stiamo attenti, lavoriamo assieme, istituzioni ed economia devono andare a braccio.